LA VOGLIA HITWORM aveva fatto sparire dal volto attraente ogni traccia di fumo del forno e dalle dita le macchie degli acidi e aveva convinto una bella donna a diventar sua moglie in quei tempi quando la scoperta relativamente recente dell'elettricità e di altri simili misteri della natura sembrava aprire la via alle regioni del miracolo accadeva non di rado che l'amore della scienza rivaleggiasse in profondità e forza esclusiva con l'amore della donna il suo alto intelletto la fantasia lo spirito e perfino il cuore potevano tutti trovare alimento d'elezione in studi che nella convinzione di alcuni loro ardenti adepti avrebbero acceso uno dopo l'altro i gradi del possente intelletto fino a che il filosofo non fosse riuscito ad impadronirsi del segreto della forza creatrice e a plasmare quindi per sé forse nuovi mondi non sappiamo se almer possedesse questo grado di fiducia nel definitivo dominio dell'uomo sulla natura certo si era dedicato con troppo entusiasmo agli studi scientifici per esserne mai distolto da altre passioni l'amore per la giovane moglie poteva forse rivelarsi il più forte dei due ma solo a patto di fonderlo con l'amore per la scienza e di unire la forza di quest'ultima alla sua questa fusione divenne e fu accompagnata da effetti veramente notevoli e da una morale profondamente suggestiva un giorno pochissimo tempo dopo il loro matrimonio almer guardava la moglie con espressione turbata che andò crescendo finché egli si decise a parlare giorgiana disse hai mai pensato che questo segno sulla tua guancia si potrebbe togliere no davvero e la rispose sorridendo ma nell'accorgersi della serietà di suo marito arrossi intensamente per dire la verità tante volte mi è stato ripetuto che esso mi dona che io sono stata così sciocca da figurarmi che potesse essere vero ah su un altro viso forse sì mi rispose il marito ma non sul tuo no mia cara giorgiana tu sei uscita dalle mani della natura così vicina alla perfezione e questo pur minimo difetto che si è perfino incerti se chiamare difetto o bellezza mi urta come il segno invisibile dell'umana imperfezione ti urta marito mio gridò giorgiana che profondamente ferita si fece da prima rossa di collera ma poi scoppiò in lacrime allora perché mi hai tolto da mia madre non puoi amare ciò che ti urta per spiegare questa conversazione occorre dire che al centro della guancia sinistra di giorgiana spiccava uno strano segno profondamente incorporato per così dire col tessuto e con la sostanza del volto nello stato abituale della sua carnagione un roseo sano seppure delicato esso aveva una sfumatura di vermiglio più vivo e la sua forma si delineava imprecisa sull'incarnato della guancia quando ella rossiva il segno diveniva mano a mano più indistinto e infine svaniva nel trionfale impeto del sangue che non dava il volto della sua vivida fiamma ma se un diverso moto dell'animo la faceva impallidire ecco apparire di nuovo il segno vermiglia macchia sulla neve con una nitidezza che talvolta almer considerava quasi paurosa nella forma somigliava non poco a una mano umana sebbene delle più minute dimensioni da pigmeo i corteggiatori di giorgiana solevan dire che alla sua nascita una fata aveva posato la sua manina sulla guancia della bimba lasciandovi così impresso il segno di quei medici doni che dovevano darle tanto potere su tutti i cuori molti spasimanti pronti a tutto avrebbero rischiato la vita per il privilegio di premere le labbra su quella mano misteriosa ma non è da nascondere che l'impressione prodotta da quella firma autografa di fata variava enormemente col diverso temperamento di chi la osservava le persone più schifiltose ma appartenevano esclusivamente al suo medesimo sesso affermavano che quella mano sanguigna come preferivano chiamarla distruggeva interamente l'effetto della bellezza di giorgiana e rendeva il suo viso perfino ripugnante ma era come dire che una di quelle piccole macchie azzurre che si trovavano talvolta nel più pur marmo statuario avrebbe mutato l'Eva di Powers in un mostro i uomini se quel segno congenito non accresceva la loro ammirazione si accontentavano di desiderare che sparisse perché il mondo potesse avere un campione vivente della bellezza ideale senza l'ombra di una menda Halmer scoprì dopo il matrimonio poiché prima aveva badato poco punto alla questione che questo era il caso suo se ella fosse stata meno bella se l'invidia stessa avesse potuto trovare qualche altra cosa da deridere l'affetto di Halmer sarebbe stato forse accresciuto dalla grazia di quella parvenza di mano ora appena adombrata ora scomparsa ora furtivamente riaffiorata e tralucente più o meno con ogni palpito d'emozione che vibrava nel cuore ma vedendo la moglie così perfetta in tutto il resto quell'unica menda divenne ai suoi occhi sempre più intollerabile ad ogni momento della loro vita in comune era il marchio fatale dell'umanità che in una o in altra forma la natura imprime indelebile su ogni suo prodotto per far intendere che esso è temporaneo e caduco e che la sua perfezione deve essere logorata dalla fatica e dalla sofferenza la piccola mano vermiglia esprimeva l'inebitabile morsa in cui la mortalità stringe anche il più alto e puro stampo umano avvilendolo nell'affinità col più basso e perfino con le stesse bestie poiché a somiglianza di esse la forma visibile di quegli stampi ritorna polvere così vedendovi il segno che sua moglie era soggetta al peccato, al dolore al declino e alla morte la cupa fantasia di Almer non tardò molto a fare di quel segno congenito un oggetto spaventoso che gli procurò più turbamento e orrore di quanto la bellezza di Georgiana fisica o spirituale non gli avesse procurato piacere nei momenti che avrebbero dovuto essere per loro i più felici egli immancabilmente senza volerlo anzi nonostante il proposito contrario tornava a quell'unico, disastroso argomento per quanto futile dapprima apparisse si legò a tal punto con innumeri successioni di pensieri e modi del sentimento da diventare il centro di tutto al primo albeggiare Almer apriva gli occhi sul volto della moglie e riconosceva il simbolo della imperfezione e quando la sera sedevano insieme vicino al caminetto i suoi sguardi vagavano furtivi verso la guancia e contemplavano tremula alla luce del fuoco di legna la mano spettrale che scriveva la caducità dove egli avrebbe con gioia adorato Giorgiana imparò presto a rabbrividire sotto lo sguardo del marito bastava un'occhiata con quella particolare espressione che spesso il volto di Almer prendeva per mutarle il colore delle guance in un pallore mortale su cui la mano fermiglia spiccava come un basso rilievo di rubino sul marmo più candido una sera tardi quando le luci cominciavano ad affievolirsi così da tradire appena la macchia sulla guancia della povera moglie lei stessa per la prima volta volontariamente affrontò l'argomento rammenti mio caro Almer disse tentando di sorridere hai nessun ricordo d'aver sognato la notte scorsa di questa odiosa mano no affatto rispose Almer trasalendo ma giunse in tono secco e distante ostentato per il desiderio di nascondere la vera profondità della sua emozione può darsi che l'abbia sognata poiché prima che mi addormentassi essa si era fortemente impossessata della mia fantasia e l'hai sognata riprese Giorgiana in fretta poiché temeva che un fiotto di lacrime interrompesse quel che aveva da dire un sogno terribile mi meraviglio che tu abbia potuto dimenticarlo è possibile dimenticare una espressione come questa ora è nel suo cuore bisogna estirparla rifletti marito mio poiché vorrei assolutamente che ti ricordassi quel sogno la mente è un triste stato quando il sonno che tutto ammanta non riesce a confinare i suoi spettri nella oscura regione su cui domina e lascia che essi ne evadano turbando questa vita reale con segreti che forse appartengono a un'esistenza più profonda Heimer ricordò allora il suo sogno gli era sembrato di tentare insieme col suo assistente Aminadab un'operazione per estirpare la voglia ma quanto più il coltello penetrava a fondo tanto più a fondo scendeva la piccola mano finché da ultimo parve che la sua minuscola presa avesse afferrato il cuore di Georgiana e non di meno il marito era inesorabilmente deciso a tagliarla o estirparla anche da lì quando il sogno si fu perfettamente delineato nella sua memoria Heimer provò di fronte alla moglie un sentimento di colpa spesso la verità si fa strada nello spirito strettamente avvolta nei veli del sonno e parla allora con una franchezza senza mezzi termini di cose su cui da svegli cerchiamo inconsciamente di ingannare noi stessi fino a quel momento egli non si era reso conto dell'influsso tirannico che un'idea aveva ormai acquistato nella sua mente ed è il punto a cui nel suo cuore si sarebbe sentito di arrivare pur di riavere pace Heimer riprese Georgiana in tono solenne io non so quale prezzo potrebbe costare ad entrambi il tentativo di sbarazzarci di questo marchio fatale forse il toglierlo potrebbe cagionarmi una deformità incurabile o forse la macchia è profonda quanto la vita stessa mi ripeto vi è una possibilità a qualsiasi prezzo di sciogliere la stretta tenace di questa piccola mano che mi fu posta addosso prima di venire al mondo carissima Georgiana ho molto riflettuto a questo proposito rispose precipitosamente Heimer e sono convinto che l'operazione sia perfettamente praticabile se vi è la minima possibilità continuò Georgiana facciamo questo tentativo a qualsiasi rischio nessun pericolo mi spaventa perché la vita finché questo marchio odioso fa di me l'oggetto del tuo orrore del tuo disgusto la vita per me è un peso di cui mi libererai con gioia e stirpa questa mano orribile o toglimi la mia misera esistenza tu sei un grande scienziato il mondo intero lo attesta hai compiuto meraviglie non riuscirai a togliere questo piccolo piccolo segno che la punta di due dita basta a coprire non è in tuo potere di far questo per amore della tua tranquillità e per salvare la tua povera moglie dalla follia oh mia nobile adorata tenera sposa esclamò heimer commosso non dubitare del mio potere ho già dedicato a questo problema il più profondo studio studio che avrebbe quasi potuto illuminarmi per creare un essere meno perfetto di te giorgiana tu mi hai fatto addentrare ancor più a fondo nel cuore della scienza mi sento ora pienamente in grado di rendere questa cara guancia perfetta come la sua compagna e allora mia adorata quale sarà il mio trionfo quando avrò emendato quel che la natura ha lasciato imperfetto nella sua opera più bella nemmeno pigmaglione quando la sua statua si tramutò in una donna viva conobbe un'estasi maggiore di quanto sarà la mia è dunque deciso disse giorgiana sorridendo pallidamente e non mi risparmiare heimer anche se il marchio dovesse infine rifugiarsi nel mio cuore il marito la baciò teneramente sulla guancia sulla guancia destra non sull'altra che recava l'impronta della mano vermiglia il giorno seguente heimer informò la moglie di un piano che gli avrebbe permesso di concentrarsi nei suoi studi e di esercitare la costante sorveglianza richiesta dall'operazione che si proponeva mentre giorgiana avrebbe goduto il perfetto riposo indispensabile alla buona riuscita si sarebbero ritirati nella vasta stanza dove almer aveva il laboratorio e dove nella sua attiva giovinezza aveva fatto scoperte sulle forze elementari della natura suscitando l'ammilazione di tutte le società erudite d'europa chiuso nella calma di quel laboratorio il pallido scienziato aveva scrutato i segreti delle più alte regioni delle nubi e delle più profonde miniere aveva trovato le cause che accendono e tengono vivi i fuochi dei vulcani e aveva spiegato i misteri delle sorgenti e come avviene che alcune di esse sgorghino dalle oscure viscere della terra pure e luminose e altre sature di tante virtù curative ivi anche aveva studiato in un periodo precedente le meraviglie del corpo umano e cercato di sondare il processo medesimo con cui la natura assimile tutti i suoi influssi preziosi dalla terra e dall'aria e dal mondo spirituale per creare e sviluppare l'uomo suo capolavoro ma da lungo tempo ormai almer aveva abbandonato queste indagini riconoscendo a malincuore la verità contro cui urtavano prima o poi tutti i ricercatori che la nostra grande madre creatrice se da un lato ci attrae con l'apparenza di operare nella piena luce del sole pone invece la massima cura nel nasconderci i suoi segreti e nonostante la sua illusoria evidenza non ci mostra che risultati ci permette in verità di guastare ma raramente di riparare e come un inventore geloso mai di creare almer riprese ora le sue ricerche quasi dimenticate non più con le speranze e i desideri che ve lo avevano spinto da principio ma perché esse contenevano molte verità fisiologiche che conducevano sulla via che gli si era proposto di seguire per la cura di Georgiana mentre il marito la guidava oltre la soglia del laboratorio Georgiana era fredda e tremante almer la guardò in volto lietamente per rassicurarla ma rimase così colpito dall'intenso vermiglio della voglia sul candore della guancia che non potera tenere un forte brivido convulso sua moglie svenne aminadab aminadab gridò almer battendo con violenza il piede in terra subito da una stanza uscì un uomo di corporatura bassa ma larga con una selva di capelli ispidi che gli ricadevano sul viso tinto dai vapori del forno quel personaggio era stato l'assistente di almer durante tutta la sua carriera scientifica ed era meravigliosamente idoneo a quell'ufficio per la sua grande docilità meccanica e per l'abilità con cui sebbene inetto a capire un solo principio eseguiva tutti i particolari per gli esperimenti del suo padrone con la sua grande forza i capelli ispidi il volto oscuro dal fumo e l'indescrivibile materialità onde era incrostato sembrava rappresentare la natura fisica dell'uomo mentre la figura snella di almer e il suo volto pallido e intellettuale erano il tipo non meno espressivo dell'elemento spirituale spalanca la porta del boudoir a minadab disse almer e brucia una pastiglia sì padrone rispose minadab guardando attentamente il corpo esanime di georgiana e poi morborò tra sé se fosse mia moglie non mi separerei mai da quella voglia quando georgiana riprese i sensi si trovò a respirare un'atmosfera di penetrante fragranza la cui mite forza l'aveva richiamata dal suo profondo svenimento la scena che si vide intorno sembrava un incantesimo quelle stanze fumose sporche e cupe dove almer aveva trascorso i suoi anni migliori in recondite ricerche egli le aveva trasformate in una serie di eleganti sale che si addicevano alla partata di mora di una bella donna alle pareti pendevano sontuosi tendaggi con quell'effetto di grandiosità e insieme di grazia che nessun altro ornamento sa ottenere e nel cadere dal soffitto al pavimento i loro ricchi e pesanti drappeggi nascondevano ogni angolo ogni rigidità di linea e sembravano racchiudere la scena fuori dallo spazio infinito stando all'apparenza giorgiana avrebbe potuto credersi in un padiglione tra le nuvole e almer escludendo la luce del sole che avrebbe potuto nuocere ai suoi processi chimici l'aveva sostituita con lampadine profumate da cui si sprigionavano fiamme di vari colori ma che tutte si univano in una dolce radiazione purpurea egli si inginocchiò al capezzale della moglie guardandola con espressione grave ma non preoccupata poiché aveva fiducia nella sua scienza e sentiva di poter tracciare intorno a giorgiana un cerchio magico impenetrabile ad ogni male dove sono? ah! mi ricordo! e la disse con voce fioca e si posò la mano sulla guancia per nascondere il segno terribile allo sguardo del marito non temere mia adorata esclamò Hilmer non ti ritrarre da me credimi, giorgiana io sono perfino lieto di quest'unica imperfezione da che rimuoverla sarà una così grande gioia oh! abbi pietà di me replicò la moglie con voce mesta ti prego non la guardare più non potrò mai dimenticare quel brivido convulso per calmare giorgiana e distrarre la sua mente dal peso della realtà il marito mise allora in pratica alcuni dei vaghi e piacevoli segreti che la scienza gli aveva insegnato in mezzo alle sue più profonde lezioni figure aeree idee incorporee e forme di innaturale bellezza vennero a danzare dinanzi a lei imprimendo le loro labili orme su raggi di luce sebbene ella avesse una vaga idea del modo con cui si ottenevano quei fenomeni ottici pure l'illusione era perfetta quasi al punto da far credere che almer sapesse dominare il mondo spirituale quando invece ella provava il desiderio di uscire dalla sua reclusione immediatamente quasi in risposta ai suoi pensieri una successione di scene del mondo esteriore passava sopra uno schermo lo scenario e le figure della vita reale erano rappresentati dalla perfezione ma con quell'incantevole e pur indispensabile differenza che sempre rende un quadro un'immagine o un'ombra tanto più attraente dell'originale quando fu stanca di questo almer la invitò a guardare un vaso pieno di terra e lo obbedì dapprima con poco interesse ma presto fu sorpresa nel vedere il germe di una pianta spuntare su dalla terra scorse poi l'esile stelo e le foglie poco a poco si aprirono e tra esse stava un perfetto e grazioso fiore è magia esclamò georgiana non oso toccarlo anzi coglilo rispose almer coglilo e aspira il suo fuggevole profumo finché puoi il fiore appassirà fra pochi minuti e non lascerà che lo scuro ricettacolo dei semi eppure da essi si può perpetuare una specie altrettanto effimera ma appena georgiana ebbe toccato il fiore tutta la pianta entristì e le foglie divennero nere come carbone quasi arse dal fuoco vi è stato uno stimolo troppo potente disse almer pensoso in compenso in quell'esperimento mancato le propose di farle il ritratto con un processo scientifico di sua invenzione che consisteva nel colpire con raggi di luce una lastra levigata di metallo georgiana consentì ma guardando il risultato fu spaventata di vedere i lineamenti del ritratto confusi e indefiniti mentre l'immagine di una minuscola mano appariva chiaramente dove avrebbe dovuto essere la guancia almer afferrò la lastra di metallo e la gettò in una bacinella ad acido corrosivo non di meno dimenticò presto quei mortificanti insuccessi negli intervalli tra gli studi e gli esperimenti chimici veniva a trovare la moglie accaldato ed esausto ma sembrava rinvigorito dalla sua presenza e parlava con acceso linguaggio delle risorse della sua arte e narrò la storia della lunga serie di alchimisti che da tanti secoli erano alla ricerca del solvente universale con cui si potesse estrarre dell'oro da tutte le materie comuni e vili almer sembrava convinto che con la più semplice logica scientifica fosse nei limiti del possibile scoprire questo mezzo da tanto tempo ricercato ma aggiunse uno scienziato che approfondisse i suoi studi fino ad acquistare quel potere raggiungerebbe una così sublime saggezza che non si abbasserebbe ad applicarlo non meno strane erano sull'elisir di lunga vita lasciò intendere chiaramente che avrebbe potuto volendo preparare un liquido atto a prolungare la vita per anni e forse indefinitamente ma esso avrebbe determinato nella natura un dissidio che il mondo intero e specialmente chi avesse ingerito quell'elisir dell'immortalità avrebbero avuto motivo di maledire almer parli sinceramente chiese Georgiana guardandolo con meraviglia e timore è terribile possedere un simile potere o anche soltanto sognare di possederlo oh non tremare amor mio le disse il marito non farai torto a te e a me stesso operando sulle nostre vite effetti così disarmonici ma volevo che tu riflettessi a quanto sia da poco in confronto la perizia necessaria per togliere quella piccola mano a sentire nominare la voglia Georgiana come sempre trassalì quasi un ferro rovente le avesse toccato la guancia e almer tornò alla sua fatica ella ne udiva la voce dalla lontana stanza del forno che dava ordini ad Aminadab di cui le giungevano le disposte rudi goffe sgraziate più simile a un grugnito o brontolio di animale che a un discorso umano lo scienziato ricomparve dopo ore di assenza e propose alla moglie di esaminare il suo armadio di prodotti chimici e di tesori naturali della terra tra i primi le mostrò una piccola fiala che conteneva disse un profumo lieve ma così potente da impregnare tutte le brezze che ispiravano sul regno il contenuto di quella fialetta aveva un valore inestimabile e nel dir questo egli sparse nell'aria un po' di quel profumo riempendo la stanza di un aroma acuto e corroborante e questo che cos'è chiese Giorgiana indicando un piccolo globo di cristallo che conteneva un liquido di colore dell'oro è tanto bello a vederlo che potrei crederlo l'elisir di lunga vita in un certo senso è così rispose Almer o meglio è l'elisir della vita eterna è il veleno più prezioso che mai sia stato preparato nel mondo con il suo aiuto io potrei dosare la vita di qualsiasi mortale che tu mi indicassi col dito a secondo della dose la sua vita si protrarrebbe per anni o egli cadrebbe morto all'istante nemmeno un re sul suo trono circondato di guardie si salverebbe se io privato cittadino ritenessi che il benessere di milioni di persone mi giustificasse della sua morte perché tieni una droga così terribile chiese con orrore giorgiana non di fidare di me mia cara disse sorridendo il marito la sua virtù benefica è ancora superiore al suo potere malefico ma guarda qui ecco un potente cosmetico bastano poche gocce in una coppa d'acqua per far sparire le lentiggini con la stessa facilità con cui si lavano le mani un'infusione più forte toglierebbe tutto il sangue dalla guancia lasciando la più rosa a bellezza pallida come uno spettro è questa la lozione con cui intendi bagnare la mia guancia chiese ansiosamente giorgiana oh no le rispose il marito questa ha un effetto superficiale nel tuo caso esiste un rimedio che agisca più profondamente in genere nei suoi colloqui con giorgiana Heimer si informava minutamente delle sue sensazioni e chiedeva se lo spazio di quelle stanze e la temperatura dell'atmosfera le si confacessero queste domande avevano una mira così particolare che giorgiana cominciò a supporre di essere già assoggettata a certi influssi respirati con l'aria fragrante e assorbiti col cibo le parve che ma forse non era che immaginazione di notare una sovra-eccitazione del suo organismo una sensazione strana indefinita che si insinuava nelle vene e le cagionava una specie di formicolio tra penose digradevole al cuore pure ogni volta che osava guardarsi nello specchio vedeva riflessa la sua immagine pallida come una rosa bianca col segno vermiglio impresso sulla guancia nemmeno Elmer lo odiava ormai quanto lei stessa per dissipare la noia delle lunghe ore che suo marito riteneva necessario dedicare ai processi chimici di combinazioni e analisi giorgiana sfogliava i volumi della sua biblioteca scientifica in molti oscuri tomi antichi trovò capitoli pieni di elemento romanzesco e di poesia erano opere di scienziati del medioevo quali Alberto Magno Cornelio Agrippa Paracelso e il famoso frate che creò la profetica testa di bronzo tutti quegli antichi naturalisti avevano precorso i loro tempi eppure ne avevano in parte la credulità perciò la gente era convinta e forse essi medesimi immaginavano che dall'investigare la natura avessero acquistato un potere su di essa e dalla fisica un dominio sul mondo spirituale non meno curiosi e fantastici erano i recenti volumi degli atti della società reale in cui i membri sapendo ben poco sui limiti delle possibilità naturali registravano continuamente prodigi o proponevano metodi per operare ma il volume più interessante per Georgiana era un grosso infolio scritto dal marito che vi aveva annotato tutti gli esperimenti della sua carriera scientifica il loro scopo originario il metodo scelto per svolgerli e la riuscita all'insuccesso finale con le sue circostanze cui l'uno e l'altro risultato fosse da attribuire il libro in verità era a un tempo la storia e il simbolo della sua vita ardente ambiziosa piena di fantasia ma pur pratica e laboriosa parlava di particolari fisici come se dietro non vi si celasse nulla eppure li spiritualizzava tutti e si riscattava dal materialismo con la sua viva e ansiosa aspirazione verso l'infinito tra le sue mani perfino la zolla di terra assumeva un'anima nel leggere Georgiana sentiva crescersi il rispetto per Hilmer e lo amava più profondamente che mai ma con una fiducia meno assoluta nel suo giudizio ella non poteva fare a meno di notare che sebbene il marito avesse compiuto grandi cose le sue più splendide vittorie erano quasi invariabilmente insuccessi al confronto dell'ideale cui aveva ammirato i suoi più fungidi brillanti erano semplici ciottoli ed egli se ne rendeva conto a paragone delle inestimabili gemme che rimanevano celate fuori dalla sua portata per quanto ricco di risultati che avevano acquistato rinomanza all'autore il volume era il documento più melanconico che mai fosse uscito da un mortale era la triste confessione e l'esemplificazione continua delle deficienze dell'uomo composito e cui spirito è gravato dal peso dell'argilla e costretto a lavorare nella materia e della disperazione che assale la natura più elevata nel sentirsi così miseramente frustrata dalla sua parte terrena forse ogni uomo di genio in qualsiasi tempo riconobbe nel giornale di almer l'immagine della propria esperienza queste riflessioni colpirono così profondamente georgiana che appoggiò il viso sul volume aperto e ruppe in lacrime in questo stato fu ritrovata dal marito è pericoloso leggere i libri di uno stregone disse almer con un sorriso sebbene il suo volto fosse turbato e contrariato georgiana vi sono in quel volume e patine su cui io posso a fatica gettare uno sguardo senza perdere il senno fa attenzione che esso non sia altrettanto dannoso per te esso mi ha indotto a venerarti più che mai disse georgiana aspetta questo successo e gli replicò puoi venermi se vuoi me ne stimerò quasi degno ma vieni ti cercavo per procurarmi il piacere della tua voce canta per me mia adorata così georgiana versò la musica fluente della sua voce per calmare la sete dello spirito di almer poi egli si accomiatò con una giovanile esuberanza di cagliezza assicurando la moglie che la sua reclusione sarebbe durata ancora poco e che il risultato era certo appena si fu allontanato georgiana provò irresistibile l'impulso a seguirlo si era dimenticata di informarlo di un sintomo che da due o tre ore aveva cominciato a risvegliare la sua attenzione era una sensazione sulla voglia fatale non dolorosa ma che le produceva un'irrequitezza in tutto l'organismo affrettandosi dietro al marito e la si introdusse per la prima volta nel laboratorio ciò che innanzitutto colpì il suo sguardo fu il forno quel lavorare ardente e febbrile con l'interno splendore del suo fuoco e che a giudicare dalla quantità di fuligine che vi si ammassava sopra sembrava acceso da anni c'era un apparato per la distillazione in piena attività in giro per la stanza ci vedevano storte tubi cilindri crogiuoli e altri apparecchi per ricerche chimiche una macchina elettrica era pronta per l'uso l'aria chiusa e opprimente era alterata da odori gassosi emessi da processi scientifici la severa intima semplicità della stanza con le sue pareti nude e il pavimento di mattoni parve insolita aria orgiana abituata alla capricciosa eleganza del suo boudoir ma ciò che attrasse principalmente in verità quasi unicamente la sua attenzione fu l'aspetto di almer era pallido come un cadavere ansioso e assorto e si curava del forno quasi dipendesse dalla sua vigilanza che il liquido in distillazione divenisse la bevanda della felicità immortale o dell'immortale sventura che differenza dall'espressione fiduciosa e allegra che aveva assunto per incoraggiare georgiana attento ora aminadab attento macchina umana attento uomo d'argilla mormorò ailmer più a se stesso che all'assistente ora un'ombra di più o un'ombra di meno può rovinare tutto oh oh borbottò aminadab guardate padrone guardate ailmer distolse un istante lo sguardo e nel vedere georgiana dapprima arrossì poi si fece più pallido che mai le corse incontro e le prese il braccio in una stretta che vi lasciò l'impronta delle dita perché vieni qui non hai fiducia in tuo marito esclamò con impeto vuoi gettare sulle mie fatiche il cattivo influsso di quel fatale segno hai fatto male vattene donna curiosa vattene no ailmer disse georgiana con quella fermezza che possedeva in alto grado non hai tu diritto di lamentarti sei tu che non hai fiducia in tua moglie hai dissimulato l'ansia con cui seguirsi di questo esperimento non giudicarmi così indegnamente marito mio dimmi tutto il rischio che corriamo e non temere che io mi ritragga poiché la mia parte di esso è assai minore della tua no no georgiana disse ailmer con impazienza non è così mi sottometto rispose calma la moglie e verrò ad un fiato ailmer qualsiasi pozione tu mi porterai ma sarà per lo stesso principio che mi indurrebbe a prendere una dose di veleno se offerta dalla tua mano mia nobile compagna disse ailmer profondamente commosso non avevo conosciuto fino a questo momento l'elevatezza e la profondità della tua natura non ti nasconderò nulla sappi dunque che la mano purpurea superficiale in apparenza ha serrato la sua presa nel tuo essere con una forza che non avevo previsto ti ho già somministrato sostanze così potenti da ottenere qualsiasi effetto meno che un mutamento di tutto il tuo organismo fisico una sola cosa resta ancora da provare se non riesce siamo rovinati perché esitavi a dirmi questo e la chiese perché georgiana disse ailmer a bassa voce c'è pericolo pericolo esiste un solo pericolo che questo orribile marchio non scompaia dalla mia guancia esclamò georgiana toglilo toglilo a qualsiasi costo o diverremo tutti e due pazzi sal cielo quanto siano vere le tue parole disse ailmer con tristezza e ora mia cara ritorna nel tuo boudoir fra breve tutto sarà sperimentato la ricondusse nella sua stanza e si accomiatò da lei con una tenerezza solenne che diceva assai più delle sue parole tutto quel che era ormai in gioco rimasta sola georgiana si immerse nella meditazione considerò il carattere di almer e gli rese più piena giustizia di quanto non l'avesse mai fatto prima il suo cuore era esultante nello stesso momento in cui tremava per quell'amore così degno di rispetto così puro ed elevato da non accettare che la perfezione da non accontentarsi meschilamente di una natura più terrestre di quanto aveva sognato e la sentiva che un tale amore era molto più prezioso dell'altro di specie mediocre che avesse tollerato l'imperfezione per amor suo e si fosse reso colpevole al livello della realtà e pregò con tutta l'anima di poter soddisfare per un momento solo le più elevate e profonde aspirazioni del marito sapeva bene che lo avrebbe soddisfatto per più di un momento poiché lo spirito di almer era sempre in marcia sempre in ascesa ed ogni istante esigeva qualche cosa che superava il limite di un istante prima in sono dei passi di suo marito la riscosse egli portava una fialetta di cristallo con un liquido in colore come l'acqua ma così luminoso da poter essere la bevanda dell'immortalità almer era pallido ma il suo pallore pareva essere la conseguenza di una violenta sovrecitazione mentale e di una tensione dello spirito più che del timore o del dubbio la preparazione della bevanda è stata perfetta disse in risposta allo sguardo di georgiana a meno che tutta la mia scienza non mi abbia ingannato essa non può fallire se non fosse per te mio caro Hilmer osservò sua moglie desidererei liberarmi di questo marchio di mortalità con abbandonare la mortalità stessa più che in qualsiasi altro modo la vita è un triste possesso per chi ha proprio raggiunto il grado di progresso morale in cui mi trovo io se fossi più debole o più cieca essa potrebbe darmi la felicità se fossi più forte potrei sopportarla con la speranza ma quale sono credo di essere fra tutti i mortali la più pronta per la morte sai per il cielo senza dover conoscere il sapore della morte rispose suo marito ma perché parliamo di morte la bevanda non può fallire osservane l'effetto su questa pianta sul sedile della finestra vi era un geranio ammalato con tutte le foglie coperte di macchie gialle Heilmer versò una piccola quantità del liquido sulla terra in cui la pianta cresceva in un breve tempo appena le radici ebbero assorbito l'umidità le brutte macchie cominciarono a scomparire in un bel verde non occorreva alcuna prova disse tranquillamente Giorgiana dammi la fiada con gioia io rischio tutto sulla tua parola bevi dunque nobile creatura esclamò Heilmer con fervida ammirazione non vi è ombra di imperfezione nel tuo spirito presto anche il tuo corpo sarà perfetto e la trangugiò il liquido e gli restituì la fiada è gradevole disse con un calmo sorriso mi sembra come acqua di una sorgente celeste ah non so che lieve fragranza e delizia allevia una sete febbrile che mi tormentava da tanti giorni e ora mio caro lasciami dormire i miei sensi si chiudono sul mio spirito come al tramonto i petali intorno al cuore di una rosa disse le ultime parole con dolce svogliatezza come se pronunziare le mormorate lente sillabe esigesse quasi più energia di quanta ella ne aveva si erano appena staccate indugianti dalle sue labbra e giorgiana era già perduta nel sonno almer le sedette accanto osservando nell'aspetto con l'emozione di un uomo per cui tutto il valore della propria esistenza è in gioco nel procedimento che sta mettendo alla prova ma a questo strato d'animo si mascolava la calma indagine propria dell'uomo di scienza non gli sfuggì il più piccolo sintomo un colore più acceso delle guance una leggera irregolarità del respiro un fremito di palpebra un tremore appena percettibile per tutto il corpo tali erano i particolari che col passare dei minuti almer annotava nel suo volume in folio una intensa meditazione aveva lasciato la sua impronta su ogni pagina del volume ma i pensieri di anni erano tutti concentrati su quell'ultima mentre era così occupato non mancava di guardare spesso sebbene con un tremito la mano fatale eppure una volta per uno strano e inesplicabile impulso gli posò le labbra ma nel momento stesso dell'atto il suo spirito si ritrasse con raccapriccio e Giorgiana nel suo sonno profondo si agitò con malessere e morborò qualche cosa quasi una protesta Ailmer riprese la sua vigilanza e non senza risultato la mano vermiglia che dapprima spiccava visibilissima sul marmoreo pallore della guancia di Giorgiana stava perdendo ora la sua nettezza di contorni ella era sempre ugualmente pallida ma a ogni suo respiro il segno diveniva più indistinto terribile era stata la presenza di quel marchio la sua scomparsa era più terribile ancora osservate i colori dell'arcobaleno mentre svaniscono dal cielo e saprete in qual modo quel simbolo misterioso sparì cielo è pressoché scomparsa disse Ailmer in un'esaltazione quasi irreprimibile riesco appena a distinguere ormai vittoria vittoria è un rosa pallidissimo il minimo fluire del sangue alle sue guance la renderebbe invisibile ma ella è così pallida aprì la tenda della finestra e lasciò che la luce del giorno entrasse nella stanza posandosi sulla guancia di Giorgiana udì nel momento stesso un gorgoglio rozzo e rauco che da lungo tempo egli aveva imparato a conoscere come la manifestazione di gioia del suo servo Minadab ah zolla ah essere terreno esclamò Ailmer ridendo in una specie di frenesia mi ha servito bene materia spirito terra cielo entrambi hanno avuto qui la loro parte ridi prodotto dai sensi ti sei guadagnato il diritto di ridere queste esclamazioni ruppero il sonno di Giorgiana lentamente ella dischiuse gli occhi e il suo sguardo cadde sullo specchio che suo marito aveva appositamente predisposto quando vide come fosse ormai appena percettibile quella mano vermiglia che un tempo affiorava splendendo con sin fausta vivezza da mettere in fuga tutta la loro felicità uno smorto sorriso le alleggiò sulle labbra ma poi i suoi occhi cercarono il volto di Almer con un turbamento e un'ansietà di cui egli non sapeva rendersi ragione ma povero Almer e la murmurò povero ma no il più ricco il più felice il più fortunato degli uomini e gli esclamò mia incomparabile sposa sono riuscito sei perfetta mio povero Almer e la ripetè con una tenerezza più che umana tu hai mirato in alto hai agito nobilmente non ti pentire se con un sentimento così puro ed elevato tu hai respinto ciò che di meglio la terra poteva offrire Almer mio caro Almer io muoio ahimè è fin troppo vero la mano fatale aveva afferrato il mistero della vita ed era il legame che teneva uno spirito angelico unito ad un corpo mortale mentre l'ultima sfumatura vermiglia di quella mano unico segno dell'umana imperfezione svaniva dalla sua guancia l'ultimo respiro della donna ormai perfetta passò nell'atmosfera e la sua anima indugiando un momento vicino al marito prese la via del cielo allora si udì di nuovo un rauco riso gorgogliante così la rude fatalità della terra sempre esulta del suo immancabile trionfo sull'essenza immortale che in questa opaca sfera dove sboccia solo in parte chiede compiutezza di un più alto stato eppure se Heimer avesse raggiunto una saggezza più profonda non si sarebbe indotto a gettare via in quel modo la felicità che poteva intessere la sua vita mortale della stessa trama della vita celeste la condizione transitoria fu troppo forte per lui egli non seppe guardare oltre gli indistinti limiti del tempo e vivendo una volta per tutte nell'eternità trovare il perfetto futuro nel presente di un'eternità